Auletta I ragazzi hanno tagliato dei tubi pluviali, li hanno puliti e verniciati di bianco e poi posizionati con fascette di plastica in tre punti, all'ingresso del paese su via Massavetere, su via Principe di Piemonte e su via Largo Cappelli. Sono lasciati là a disposizione di chiunque volesse riempirli per nutrire tanti randaggi che ad Auletta sono presenti. L'iniziativa, partita già da qualche giorno, era stata proposta all'assessore delegato all'ambiente e alle politiche giovanili Antonio Adesso, che l'aveva subito accolta con entusiasmo perché rientra tra le politiche a favore degli animali che il Comune assicura sta portando avanti. Come le tante giornate dedicate alla microcippatura dei cani o le campagne di sensibilizzazione contro il maltrattamento degli animali di strada. Poi perché l'iniziativa parte dai ragazzi del servizio civile che hanno ben inteso il ruolo che tale esperienza assegna loro all'interno della comunità. Mettono tempo, attenzione ai re, al servizio del paese in cui operano, in questo caso con un'iniziativa che potrebbe migliorare la convivenza tra uomo e animale. Ma, va detto, potrebbe anche creare problemi se non gestita in modo adeguato. Potrebbero verificarsi situazioni nocive dal punto di vista igienico-sanitario, così come potrebbe incrementarsi il fenomeno del randagismo per la presenza di troppo cibo a disposizione. La sensibilità dimostrata dai ragazzi nel cercare di migliorare la qualità della vita degli animali va bilanciata con azioni adeguate da parte del comune che deve continuare con le microcippature e magari le sterilizzazioni degli animali e da parte dei cittadini che non devono sentirsi ora autorizzati ad abbandonare cibo per strada. Tutti sono chiamati a contribuire alla causa ma sempre tenendo comportamenti conformi al comune senso civico.